Buonasera amici radioascoltatori, torna l'appuntamento di Attubertouring, le istituzioni rispondono i cittadini, appuntamento del lunedì, questa sera nostro ospite Armando Neri, vice sindaco della città di Reggio Calabria, buonasera Armando. Buonasera Mario, buonasera a tutti. Allora, noi abbiamo avuto Armando Neri in più occasioni nel corso della nostra trasmissione, aveva altre deleghe, deleghe a bilancio, dopo diciamo la fase, la nuova fase, l'aggiunta Falcomatabis, Armando Neri è stato promosso a vice sindaco o è un pari ruolo? Beh dai, possiamo dire così. È una promozione sul campo. In più occasioni abbiamo avuto modo di chiacchierare, comunque di affermare che comunque la delega che ha lasciato Armando Neri è una tra le deleghe sicuramente più impegnative come lavoro, un lavoro oscuro ma decisamente uno tra i più importanti. Cosa ha lasciato a Irene Calabro? Irene sta lavorando alla quale facciamo un grosso in bocca al lupo e sta facendo davvero un lavoro straordinario. Tutta l'aggiunta in realtà è una giunta affietata che lavora veramente con amore per il proprio territorio. La delega al bilancio è una delega faticosa, è una delega molto bella che ti consente di conoscere molto bene la macchina amministrativa però insomma c'è un settore che lavora con passione, dei dipendenti qualificati per cui c'è sicuramente tutto il presupposto per fare un ottimo lavoro. Allora nella nuova fase dell'aggiunta comunale di Reggio Calabria Armando Neri ha assunto le delega di vice sindaco, affari generali e risorse umane, servizi demografici e decentramento, organizzazione e qualità dei servizi, patti per il sud, attuazione al programma politico e rapporti con i sindacati. Tra tutte queste deleghe quella è quella più complicata? Sono tutte deleghe molto interessanti e importanti anche perché ciascuna ha il suo contenuto particolare. Una delega che sono deleghe di ascolto diciamo. C'è anche organizzazione personale, rapporti con i sindacati, servizi. Sì, diciamo che la delega del personale è molto importante perché siamo perfettamente consapevoli che la macchina amministrativa comune in questo caso funziona soltanto se i dipendenti sono messi nella condizione migliore per esprimere le loro potenzialità e lavorare quanto più serenamente possibile. Purtroppo non sempre, anche a causa delle nostre ormai note ristrettezze di bilancio, siamo nella condizione di garantire pienamente il benessere di tutti i dipendenti, ma siamo perfettamente consapevoli che loro ne siano a conoscenza e che cerchiamo di trasmettere un messaggio che è quello per cui questa città si risolleva soltanto se tutti remiamo dallo stesso lato. Come dipendenti e noi soprattutto come politici dobbiamo farlo ancora più degli altri proprio perché dobbiamo essere da esempio. Tra l'altro ultimamente, nello scorso anno, in maniera specifica, proprio con i dipendenti c'era stato un problema sui pagamenti e le mensilità, insomma comunque poi tutto risolto come sta procedendo? Sappiamo un argomento abbastanza serio. Certo, sono argomenti importanti assolutamente che abbiamo affrontato con grande delicatezza e responsabilità in quelle fasi e che dipendono, sono dipesi in sostanza, da alcune emergenze specifiche che accaddero in quel periodo, ricordiamo il pignoramento Leonia. Adesso finalmente stiamo uscendo dalla fase delle maggiori difficoltà, anche se è un comune che deve stare sempre allerta e grazie alla programmazione che ci arriva anche dai fondi comunitari, dai patti per il sud di cui sicuramente parleremo, stiamo cercando di programmare la città che insieme a tutti i reggini vogliamo costruire e che servirà passo dopo passo a farci uscire dalla logica dell'emergenza. Vi ricordo che siamo in compagnia di Armando Neri, vice sindaco di Reggio Calabria, nuovo vice sindaco di Reggio Calabria, da qualche mese. Per rimanere in argomento, sulla nuova giunta Falcomatà, la Falcomatà bis, la Falcomatà 2, nel corso degli scorsi mesi c'è stata una lunga fase di curiosità, quando nasce, quando non nasce, poi alla fine del 24, un po' quasi a regalo di Natale, come molti hanno detto, hanno scritto, dicendo, ma quella fase che ha preceduto la composizione della nuova giunta, è stato detto molto, è stato scritto molto, Voi da dentro, insomma, gran parte della giunta è stata confermata, tre elementi sono stati, diciamo, hanno lasciato, tutti gli altri confermati con altre deleghe, ma dall'inserno come è stata vissuta quella fase? È stata vissuta con serenità, nel senso che ciascuno di noi assessori, sia nella prima giunta che in questa seconda giunta, ha sempre interpretato questo ruolo come servizio per la città e per la collettività, e quindi siamo perfettamente consapevoli che è un periodo della propria vita, è un momento delle nostre vite in cui siamo chiamati dai cittadini a dare il massimo per il bene della nostra città, per cui è normale, c'era un po' di fibrillazione all'interno della giunta, però il sindaco ci stimolava sempre a lavorare con continuità, con dedizione, per cui ognuno era molto concentrato a fare il suo lavoro e a condividerlo con il gruppo di giunta, fermo restando che poi siamo perfettamente consapevoli che le decisioni sugli assessori spettano sempre al sindaco, verso il quale abbiamo sempre manifestato grande fiducia nelle scelte che ha fatto e continueremo a farlo. E questo suo tuo lavoro, diamo a scelta il tuo a questo punto, abbiamo iniziato col tuo, questo tuo lavoro di vice sindaco, anche di coordinamento dell'attuazione del programma politico, come sta procedendo? Perché la fase di start-up si è, diciamo... Sì, ormai è passata, un paio di mesi, però già qualcosa si vede nell'attuazione del programma, ora come sta procedendo questa attività di coordinamento, immagino, di tutti gli assessorati per quanto riguarda il programma politico? Sì, è un lavoro molto interessante che presuppone necessariamente una condivisione, condivisione sia da parte della giunta che c'è e c'è sempre stata e questo facilita moltissimo sinceramente il mio ruolo nel buon rapporto sia con gli assessori che anche con i consiglieri comunali, quindi con gli organi istituzionali, con i dipendenti, ma è un lavoro di coinvolgimento che deve dare necessariamente le forze positive di questa città, che sono tante, mettersi in campo per realizzare insieme appunto la visione che abbiamo nella città. Da questo punto di vista e da questa considerazione scaturisce anche un'altra delega che è quella al rapporto con i sindacati, che è una delega specifica, nel senso che nella prima giunta Falcomatà questa delega non esisteva. Il significato di questa delega trae spunto appunto alla consapevolezza che nel rapporto anche con i sindacati per le sfide che questa città si appresta a vivere con i patti per il sud, con il decreto reggio, con le politiche di sviluppo del territorio e non soltanto rispetto alle dinamiche del personale, per cui per ciò che riguarda la dinamica della funzione pubblica, dei rapporti sindacali, è fondamentale costruire sempre più questo dialogo con le forze sindacali che all'interno della nostra città sono forze attive, positive, propositive che sicuramente possano dare una grande mano alle istituzioni lette dei cittadini per governare la città. E sappiamo che appunto al di là di tutte le tante difficoltà i sindacati in questo momento stanno davvero rappresentando un po' l'antenna principale delle numerose difficoltà e sulle società miste pure ci sono stato in questi giorni proprio un tentativo di incontro con i sindacati per le nuove società miste Castore e Polluce che in che fase sono arrivate perché abbiamo letto più che altro sul bando il bando sul personale lì come la non è una sua delega non è una tua delega precisa però voglio dire i rapporti con i sindacati in questo caso potrebbero rientrare. Sì, è una delega sulla quale sta lavorando molto bene ovviamente sul delega del sindaco in consigliere Gangemi anche che è delegato appunto alle partecipate su questo come sai stiamo investendo moltissimo sin dall'inizio del nostro mandato perché riteniamo che se funzionano bene le nostre società partecipate che ormai sono a partecipazione al 100% pubblica i servizi in città Castore e Polluce le ricordiamo vengono resi in maniera migliore e l'obiettivo di qualunque amministrazione diciamo e di qualunque livello di governo è quello di garantire servizi migliori in città diciamo che l'argomento che interessa probabilmente è l'elemento che manca in questo momento forse di più che manutenzione delle strade edifici a questo proposito c'è anche un messaggio che è arrivato quando vuoi lo leggo perfetto leggiamolo ora vado? ok ho il piacere di viaggiare a quest'ora potendo ascoltare Turing ed i nostri rappresentanti volevo chiedere al nostro assessore che peraltro è vice sindaco quando partiranno queste benedette manutenzioni la vivibilità purtroppo è al limite credo sia viabilità tra vulcani di acqua voragine e degrado quando si inizierà a vedere qualcosa nel contempo segnala il distacco di muratori sul ponte di Sant'Anna pericolosissima per chi transita e che con le piogge si sta sgridolando ok ringraziamo il nostro radioascoltatore che è 347701 ecco quindi non c'è il nome lo ringraziamo e lo saluto sono perfettamente diciamo d'accordo con ciò che lui segnala intanto mi faccio carico diciamo di offrire questa segnalazione al settore lavori pubblici competente per il distacco di questa muratura che segnala il ponte di Sant'Anna per quanto riguarda le strade siamo perfettamente consapevoli che si tratti di un'emergenza assolutamente importante e non sbaglio quando il nostro cittadino dice che la vivibilità è importante anche perché sicuramente diciamo una strada che funziona bene che è ben mantenuta aumenta anche la qualità della vita dei cittadini da questo punto di vista proprio e da questa considerazione parte la scelta che ha compiuto l'amministrazione e cioè mettere nel decreto reggio che come sapete è stato di recente rimodulato e accettato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal Ministro del Rio in occasione di una firma che c'è stata qualche giorno fa insieme al Sindaco Falcomatà abbiamo messo sul decreto reggio circa 50 milioni che serviranno a realizzare l'intera rete stradale cittadina e quindi non soltanto a fare la manutenzione ordinaria che si fa col bilancio e che è in corso proprio in questi giorni ma a realizzare proprio le strade i marciapiedi e i sottoservizi in modo tale appunto che ci sia un'opera più completa è ovvio che questo è il lavoro che esige più tempo rispetto al semplice sistemare le strade piuttosto che le buche però è qualcosa che nel lungo periodo sicuramente garantirà dei servizi più efficienti e delle strade che esigeranno interventi di manutenzione meno frequenti rispetto a quanto accade dal punto di vista cronologico temporale più o meno con la firma della rimodulazione che probabilmente era l'atto che vi serviva dal punto di vista temporale voi come previsione per appunto per la manutenzione stradale che tra l'altro sono tanti messaggi questo è uno degli ultimi che abbiamo spesso registrato ce ne sono diversi ma hanno tutto lo stesso tenore non solo oggi ne abbiamo già registrato in passato dal punto di vista temporale quando prevedete che si possa avviare una prima fase di risistemazione delle strade dei servizi sotto servizi adesso la parte più difficile lo scoglio era quello della rimodulazione del decretoreggio che purtroppo è durata un po' di tempo proprio perché quel decretoreggio nel momento in cui ci siamo insediati era un brogliaccio pieno di contenziosi e basta quindi abbiamo dovuto fare ordine tra le opere individuarle rimodularle e abbiamo fatto una scelta specifica la firma adesso finalmente con il ministro Graziano Del Rio e il sindaco Falcomatà adesso siamo nella fase della progettazione verrà varata una short list che servirà anche ad individuare dei professionisti che aiuteranno l'ente comunale nella progettazione di tutte le vie e le arterie della nostra città e finalmente dopo si potrà procedere con i lavori più o meno di quanto parliamo occhi e croce due mesi sei mesi un anno giusto per dare un'idea il settore dei lavori pubblici e l'ufficio del decreto reggio hanno già avuto indicazione da parte del sindaco di procedere nei più brevi tempi possibile anche perché siamo perfettamente consapevoli che si tratti di un'esigenza molto molto importante all'interno della nostra città quindi posso dire senza timore che sicuramente nei prossimi mesi saremo in grado di definire le progettazioni delle strade e partire con i lavori che poi peraltro un po' mi mancherà perché poi qualsiasi cosa si pubblica ma pensate giustati strati è l'argomento principale la domanda più giustamente no ma anche per una questione mia professionale insieme a Pasquale con Fapputortia prima cosa giustati strati quindi poi dovremmo inventarci qualcos'altro sicuramente poi tra l'altro uno degli altri argomenti che vorrei trattare anche l'argomento dell'ultimo consiglio comunale c'è stato un provvedimento molto importante io le ricordo che abbiamo promesso al vice sindaco che mandiamo la canzone quando vuole ce l'ho pronta no preferisce anche dopo faccio la domanda sempre su un'altra strada che è la strada principale di Reggio Calabria come Benvenuto Marra sa bene mi sta molto a cuore Sant'Anna il corso Garibaldi il corso Garibaldi sono ripartiti cosa intende dire tipo quello è il mio posto di lavoro no l'argomento è stato trattato tantissime volte nel corso e nei nostri appuntamenti sul corso Garibaldi grazie al corso Garibaldi la mia smodata ammirazione per la sovrintendenza io sono un fan a Canito c'è proprio sì sì molti fan moltissimi io il primo di tutti credo la situazione quando si sbroglierà definitivamente sul corso Garibaldi sappiamo insomma tralasciamo la lunga diatriba con la sovrintendenza i lavori più o meno come stanno procedendo cosa possiamo dire ai cittadini ai commercianti ecco innanzitutto ringraziarli per la pazienza questo credo sia assolutamente la prima cosa che dobbiamo fare perché è ovvio il corso Garibaldi è il salotto della nostra città per cui in tutti questi anni ormai in cui si è tentato di renderlo migliore attraverso le opere i commercianti sono stati tra i cittadini che hanno dovuto avere maggior pazienza proprio nel tollerare anche i disagi correlati alla realizzazione anche purtroppo un decremento del fatturato naturalmente rientra la pazienza per cui sicuramente loro sono stati tra i soggetti diciamo che hanno dovuto subire magari le maggiori difficoltà proprio per consentire a tutta la città alla fine di godere di questo nuovo bene che una volta finiti i lavori e ci auguriamo che ormai grazie ai rapporti continui che stiamo avendo anche con la sovrintendenza per evitare ulteriori blocchi e procedere spediti verso la definitiva realizzazione sia effettivamente più bello più fruibile nel frattempo sono arrivati anche i nuovi rampioni nella zona del corso sud si sta cercando diciamo di procedere sempre per lotti verso il corso della zona nord quindi verso il museo e siamo abbastanza diciamo fiduciosi proprio perché stiamo cercando passo dopo passo e giorno dopo giorno di ridurre quanto più possibile i disagi anche se ancora purtroppo ce ne stanno per arrivare a quest'opera definita e consegnarla alla città tra l'altro tra i disagi volevo anche segnalare un altro elemento non secondario magari a noi ci sfugge però ci è capitato di recepire alcune osservazioni da parte di genitori come bambini disabili nella parte in prossimità del tapirulan continuano ad esserci le marciapiede cosa che non c'è ad esempio nella zona diciamo da piazza italia alla questura alla villa comunale come mai lì ci sono ancora i marciapiedi quella è una zona rifatta sì però purtroppo lì c'è un vincolo specifico a doverli mantenere tra l'altro anche alla fine del tapirulan c'è il marciapiede poi riprende il marciapiede ce l'hanno segnalato mi lasci indovinare il vincolo è della soprintendenza è un'esigenza diciamo che ovviamente è vera assolutamente la necessità diciamo di abbattere le barriere architettoniche in quelle parti in cui occorre rispettare determinati vincoli ma bisogna anche guardare alle esigenze specifiche dei cittadini soprattutto di quelli che hanno maggiori difficoltà nella mobilità e dovremo trovare una soluzione sicuramente che consenta a tutti indistintamente di godere della bellezza del nostro corso Garibaldi rispettando le regole ma anche le difficoltà altrui allora siamo in compagnia di Armando Neri vice sindaco del comune di Reggio Calabria nel corso della prima parte di Attuperturing abbiamo fatto una di esamina in generale toccando anche qualche problema nello specifico tra le strade corso Garibaldi e non solo con Armando Neri ora volevamo aprire una fase un po' più di attualità che riguarda l'ultimo consiglio comunale consiglio comunale nel corso del quale al di là dei debiti fuori bilancio cose insomma ormai che non mancano mai ormai non cambiano mai non finiscono mai anzi purtroppo purtroppo è stato approvato il regolamento sugli alloggi popolari e su questo inviterei anche benvenuto noi abbiamo registrato un'intervista anche con l'assessore Angela Marciano che ha assunto la delega al patrimonio edilizio allora quanto è importante per il comune per l'amministrazione comunale questo regolamento che ha approvato è un regolamento fortemente ricordiamo il regolamento sugli alloggi popolari presidenza repubblica esatto un regolamento fortemente voluto da tutta l'amministrazione devo dire in primis dal sindaco Falco Matà è un'opera di bonifica molto importante che guarda come obiettivo a soddisfare le esigenze di quanti per tanti anni e da tanto tempo vivono nell'aspettativa dell'assegnazione di un alloggio popolare perché dico di bonifica perché sin dall'opera iniziata grazie al lavoro del delegato Giovanni Minniti sempre su indirizzo del sindaco che è proseguita ora dall'assessore Marcianò è stato fondamentale individuare dei capisaldi di quest'azione politico e amministrativa che ci consenterà nel più breve tempo possibile proprio perché l'esigenza correlata a questo tema è particolarmente importante particolarmente forte le fasce più deboli alla fine della nostra città che ci consentirà in breve tempo di realizzare un censimento degli alloggi popolari e di procedere finalmente all'assegnazione individuando in capo agli assegnatari i requisiti permanenti e quindi di procedere secondo le norme di legge e tra l'altro è un impegno che il sindaco ha preso più volte pubblicamente ma che ha preso anche in occasione delle assemblee pubbliche con la città anche da quelle promosse da Reggio non tace per cui è sicuramente una pietra miliare della nostra storia amministrativa questa delibera ma che parte da un lavoro che è da due anni che si fa perché non bisogna pensare che sia qualcosa nata improvvisamente è qualcosa che affonda le sue radici su una scelta politica ben precisa che è quella di effettuare un riordino sul tema dell'edilizia residenziale pubblica sin dall'inizio del nostro mandato alcuni dicono sì dopo due anni siete svegliati avete iniziato a pensare all'edilizia residenziale pubblica in realtà davvero non è così purtroppo si è trattato di un lavoro molto fatto dietro le quinte un lavoro di riordino un lavoro di risistemazione di un grande caos che c'era perché purtroppo i criteri che viggevano prima della definizione di questi nuovi elementi e di queste nuove regole erano quelli dell'assegnazione in via d'urgenza che non era più in via d'urgenza ma purtroppo era diventata in via ordinaria dell'abuso di questo strumento che alla fine ha creato spereguazione adesso è necessario recuperare fare la bonifica dei dati degli alloggi i sopralluoghi le verifiche dei requisiti degli attuali assegnatari e poi successivamente individuare anche quelli che sono presenti nelle regolatorie ancora del 2005 e procedere con le nuove assegnazioni noi sentiamo la dichiarazione dell'assessore Angela Marciano proprio sull'argomento relativo appunto a questo regolamento sulla residenza pubblica al comune di Reggio se ci sono idee chiare e risultati che si vogliono raggiungere bisogna partire con le cose semplici e quindi in primo luogo garantire rigore rispetto a quella che è quindi aggredire questo problema con delle regole che sono regole certe restituire un po' di trasparenza non parlo non vado oltre non parlo di legalità parlo di trasparenza in primo luogo bisogna dare la possibilità alla gente a questa gente di non pensare che le informazioni che riguardano il patrimonio edilizio o le politiche e la casa appartengono a questo o quel consigliere a questo o quel funzionario devono essere visibili a tutti con delle banche dati online chiare evidenti che diano conto di quella che è la reale situazione quindi razionalizzazione regolamentazione del sistema attraverso appunto dei regolamenti che finalmente diano con chiarezza le linee guida di quelli che sono i requisiti per godere della casa per rimanere ad esempio per regolamentare la famosa questione degli articoli 31 che non sono stati più assegnati e che negli anni nei quali negli anni invece passa di si abusato fin troppo e questo è il punto di partenza non sarà assolutamente semplice è un percorso difficile ho già chiesto aiuto in prefettura al signor perfetto sicuramente avremo bisogno di un aiuto interforze ma quello deve avvenire dopo nel momento in cui l'amministrazione ha dimostrato maturità ha dimostrato di lavorare sul patrimonio edilizio di regolamentare bene le cose di fare chiarezza e di utilizzare le risorse umane le risorse finanziarie giuste e appropiate per far funzionare questo importante settore torniamo in diretta sembra abbastanza infervorata l'argomento è molto importante che in effetti di amministrazione tutto Angela il delegato ma tutti noi abbiamo a cuore trasparenza e chiarezza sulle regole è quello che dicevamo prima bisogna ridefinire dei criteri di trasparenza di legalità proprio perché in passato purtroppo vigeva la regola dell'urgenza che non sempre era tale che purtroppo è diventata un sistema di assegnazione ordinario che ha creato disuguaglianze tra l'altro l'argomento è relativo anche alla situazione nel quartiere di Argilla tra le deleghe è stata inserita ancora una parola che è di Argilla che magari ha fatto un po' discutere ma ha fatto un po' discutere però è la verità se è così è così basta è un termine molto forte anche lì c'è da tanto tutelare le famiglie che in quel posto ci vivono in maniera dignitosa decorosa la volontà è proprio questa con grande onestà o perlomeno vorrebbero farlo magari lo fanno vorrebbero farlo io loro sì però per il contorno non è facile per cui sì credo che sia una cosa molto molto importante da portare avanti non dico la massima priorità ma poco ci manca assolutamente sì allora parliamo ora anche con Armando Neri ricordiamo vice sindaco del comune di Reggio Calabria che ha le deleghe anche la delega per i patti del sud su questo argomento si incentra gran parte del vostro programma di governo per la città di Reggio Calabria concentriamoci sulla città di Reggio Calabria perché ci sono anche i patti per la città metropolitana però Armando Neri vice sindaco della città di Reggio Calabria infatti ora il buon Riccardo potrebbe averne a male che salutiamo ci ascolta sempre è strano che ancora non abbia mandato il messaggio dove dice sarà impegnato Neri è super sexy di solito sul patto per la città di Reggio già in più occasioni abbiamo detto l'argomento è stato trattato ma sulla modulazione delle opere del patto per la città di Reggio l'attuale situazione a che punto è? siamo alla fase 2 la fase 1 è stata la progettazione la fase 2 sarebbe? la fase 1 è stata diciamo redazione dei patti firma dell'accordo che è avvenuto tra il presidente del consiglio del tempo che era Renzi e il sindaco Falcomatà e adesso finalmente c'è stato un incontro proprio qua nella nostra città qualche giorno fa era i primi diciamo di gennaio qualche settimana fa con il ministro De Vincenti che è delegato proprio ai patti per il sud al mezzogiorno in cui si è dato effettivamente il via alla fase 2 cioè il momento in cui i comuni le città metropolitane noi la città di Reggio Calabria possiamo partire con gli impegni quindi possiamo impegnare le somme dei patti per il sud per la realizzazione delle opere la fase 2 quindi adesso costerà di progettazione e realizzazione delle opere quindi quelle opere che all'interno dei patti per il sud che abbiamo più volte scritto sono già nella fase della progettazione esecutiva effettivamente potranno avere uno start più veloce e essere immediatamente messe a disposizione della città mentre quelle che necessitano di una progettazione potranno essere finalmente progettate perché c'è la disponibilità da parte del governo a stanziare immediatamente le somme e quindi l'autorizzazione per i comuni per le città metropolitane ad impegnare la spesa sappiamo che sono un ingente somma quello dei patti per la città di Reggio assolutamente su questi su questi primi progetti qualche cosa avete già comunicato ma su quali ad esempio più immediato possiamo già dare comunicazione beh per esempio è stata varata in giunta l'avvio del parco della biodiversità che è molto correlato al tema del turismo dell'ambiente il parco della biodiversità per chi non sapesse dove si trova si troverà dove si troverà vicino a Gambarie che servirà appunto per valorizzare diciamo tutti quei percorsi turistici ambientali che caratterizzano diciamo la parte della montagna che fa comunque riferimento alla nostra città questa diciamo è stata proprio la prima delle opere approvate all'interno dei patti per il sud perché era in fase già esecutiva quindi si può partire adesso partiranno sicuramente altre opere importanti alcune di viabilità alcune che metteranno a disposizione della città impianti sportivi importanti come quella il complesso polivalente di San Giovannello oppure ci saranno interventi importanti anche per quanto riguarda appunto il settore del turismo della cultura insomma tutta la valorizzazione dell'area di Pellaro col progetto Capacity insomma i patti per il sud rappresentano uno strumento fondamentale di programmazione per la nostra città che dobbiamo essere bravi a sfruttare bravi ad impegnare e ad investire e su questo veramente ci stiamo concentrando molto sia i settori che i dipendenti che i dirigenti perché vogliamo abbiamo fretta in questo caso dico la verità di restituire alla città di consegnare ai cittadini i frutti di questo straordinario strumento che è la città nelle proprie mani e che considera come uno strumento molto delicato perché come dicevi tu prima Mario si tratta di tanti soldi sono circa 133 milioni di cui la metà diciamo più o meno sulla città e il resto e l'altra metà distribuiti tra i vari comuni dell'area metropolitana e la delega sulla città metropolitana c'era l'altro vice sindaco Riccardo Mauro appunto è stata destinata agli altri comuni dell'area metropolitana riteniamo siano tanti soldi riteniamo sia la possibilità per il nostro territorio di vivere uno sviluppo importante riteniamo per farlo bene che sia fondamentale assoggettare queste somme queste procedure al protocollo ANAC questo è un altro intervento che avete più volte annunciato annunciato e fatto è fatto perché riteniamo sia fondamentale proprio perché siamo perfettamente consapevoli che purtroppo nella nostra terra investimenti milionari attirano gli appetiti delle cosche assolutamente assoggettare questi finanziamenti importanti perché siano effettivamente utili allo sviluppo della città e della parte onesta della nostra area metropolitana e della nostra città che vengano governati tramite questo protocollo ANAC sottoscritto dal Comune dalla Prefettura dalla Procura e ovviamente anche dall'ANAC che serva proprio a garantire che neanche un euro cada nelle mani della criminalità organizzata ritengo importante a questo punto di vista anche la proposta del Vice Sindaco Mauro metropolitano che chiede di estendere il protocollo ANAC anche alla città metropolitana ovviamente e quindi ne ho insediata e ne ho operativa dopo il passaggio appunto alla definitiva chiusura insomma la chiusa la parentesi dell'amministrazione provinciale appunto proprio dopo la riforma su questi 133 milioni tra i settori che diceva il Vice Sindaco Armando Neri che è il nostro ospite quello della cultura e turismo sono due settori sui quali la città di Reggio può decisamente creare economia ecco tra le vostre intenzioni programmatiche ecco come si può incidere in questi due settori come avvierete azioni a sostegno della cultura e del turismo soprattutto diciamo che è una innanzitutto dal punto di vista del turismo la reggio città turistica la cultura la presenza del museo la presenza del museo che sta andando veramente benissimo però facciamole arrivare i turisti i turisti devono arrivare altre iniziative cosa avete in mente sicuramente è un sistema di trasporti e di viabilità che sia adeguato a quello di una città metropolitana e quindi su questo solco si innestano le battaglie importanti che stiamo conducendo insieme alla cittadinanza e ai cittadini come quella sull'aeroporto e un'altra battaglia importante vinta in questa settimana è stata quella del ricevimento da parte del ministero delle osservazioni che come città abbiamo fatto rispetto al porto ah sì mezzi pesanti porto esatto mezzi pesanti porto il tema è questo molto importante al tempo il sindaco Falcomatà aveva detto che la vocazione del porto di Reggio Calabria non era quella di farci passare i mezzi pesanti ci fu qualche dubbio su questo in realtà dubbi fugati il ministero ha recepito le osservazioni del nostro sindaco della città per cui effettivamente si può dire che il porto di Reggio Calabria vivrà una vocazione a carattere turistico e quindi è scongiurato questo è ufficiale dal porto di Reggio Calabria sì ha risposto il ministero per cui sì è ufficiale intervento appunto cultura e turismo sui patti per Reggio cosa avete in mente ci sono vari percorsi sicuramente di carattere ambientale ci sono che prevedono l'individuazione di parchi per esempio c'è un progetto molto interessante che si chiama 15 piazze in 15 quartieri e questo è fortemente correlato al tema della bellezza e del turismo cioè tutte le circoscrizioni di Reggio Calabria avranno una piazza che verrà messa a nuovo con interventi finanziati dai patti per il sud questo perché riteniamo fondamentale che all'interno delle circoscrizioni dei quartieri Reggio Calabria viva di nuovo l'agorà il tema dell'agorà che è un tema fortemente culturale e rappresenta una parte sicuramente importante dell'identità anche regina da questo punto di vista questo intervento sicuramente si innesta in questo solco come insomma gli altri correlati all'individuazione di parchi botanici poi sul tema dei parchi c'è questa volontà proprio dell'amministrazione di restituire alla città tramite la delega che sta svolgendo anche con grande fatica e grande dedizione il consigliere Brunetti insieme al tema dell'ambiente con l'assessore Muraca la volontà di restituire la fruizione delle giostrine dei parchi ai bambini della nostra città a breve finalmente vedremo la riapertura la riconsegna alla città del parco archeologico in zona Trabocchetto grazie a un intervento anche del parco della Spromonte con cui si è avviata una collaborazione molto importante tesa alla valorizzazione di questo bene schiuso per tanti anni ma che adesso finalmente si schiude alla città per chi non lo sapesse nella zona nord nella zona collinare della città più o meno in zona Reggio Campi è una sfida Mario che mira a restituire alla città ciò che è suo attraverso la riscoperta di questi piccoli tesori che magari spesso abbiamo sotto gli occhi ma che non riusciamo a vedere tra le ultime domande ce n'è una che avevamo anche anticipato perché è un problema che purtroppo di attualità ha colpito ne è arrivata anche un'altra se c'è un'altra domanda la possiamo dare così poi sempre del nostro radio ascoltatore mi sono accorto adesso grazie per la cortese risposta dimenticavo anche l'illuminazione per esempio a Cosenza hanno i lampioni a led che risparmiano energia e danno stanno arrivando anche a red sì sì questa cosa qua la sappiamo sì ok quindi c'è un impianto di adeguamento ha perfettamente ragione ci sono interventi importanti sul pommetro come vedete c'è tanta carne al fuoco c'è il pommetro che bisogna già avviato questa qua rispetto ai patti per il sud che prevede un efficientamento energetico di tutta la rete di illuminazione della nostra città e quindi produrrà risparmi per lente e maggiore efficienza energetica su tutta la città su tutta la città allora l'argomento riguarda quello che anticipavo riguarda l'acqua c'è stato un grave problema parliamo dell'acqua e delle forze queste sono ovviamente domande che gli amministratori assolutamente vanno fatte c'è stato un problema di approvvigionamento dell'acqua attenzione non vorrei fosse fraintesa la mia battuta è chiaro che Mario deve fare questa domanda sono tutte domande che comunque ci sono più interessano molto la città e segnalate il problema di acqua nella zona centro e zona sud c'è stato un lungo periodo di difficoltà com'è la situazione la situazione allora sulla zona centro innanzitutto mi preme segnalare tutto il lavoro che stanno facendo gli uffici comunali in questo periodo per restituire la possibilità diciamo di far tornare l'acqua nel più breve tempo possibile insieme anche al delegato Brunetti sul centro storico c'è stato purtroppo un problema ha un tubo molto grande di Sorical che praticamente fa sì che confluisca l'acqua da Cataforio verso il centro storico questo tubo si è rotto però Sorical ci fa sapere che sono già in fase di intervento stanno facendo manutenzione quindi nel giro di pochissimo tempo il centro storico dovrebbe di nuovo poter continuare a fornirsi di acqua questo per quanto riguarda il centro storico mentre nella zona sud ci sono stati anche nei giorni scorsi importanti i servizi su cui si è inteso intervenire tempestivamente ce ne scusiamo con i cittadini però purtroppo è un dato di fatto anche in questo caso si è rotto un tubo particolarmente importante e grande che consente alla zona sud di approvvigionarsi dell'acqua proveniente dal Tuccio quindi dalla zona ionica dell'area metropolitana e quindi questo ha creato ovviamente le grosse difficoltà dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico ma su questo si è intervenuto Sorical l'ha fatto gli interventi per cui effettivamente è stata ripristinata la situazione o comunque nelle zone dove ancora non è ripristinata al 100% non ci sarà più il problema quello del centro storico è più recente poi c'è stato sempre in zona sud un problema dovuto ad una conduttura idrica che è serrotta in zona stadio a monte su cui sono stati fatti gli interventi tra l'altro anche nelle ore notturne per evitare diciamo di recare disagio al traffico e alla popolazione si cerca diciamo quello dell'acqua è un problema annoso nella nostra città si cerca di intervenire a più riprese di fare intervenire e sollecitare Sorical ad intervenire lì dove serve che intervenga Sorical però è evidente che una soluzione sicuramente definitiva o comunque importante sarebbe la realizzazione di quella famosa diga anche perché Sorical ha lasciato lo scorso anno Catanzaro a secco non so per quanti mesi è in difficoltà a Cosenza è in difficoltà a Reggio quindi prima si toglie da mezzo ai piedi Sorical forse meglio uso una frase molto forte mi meraviglio di lei anche perché quando si arriva a casa io mi metto nei panni di chiunque noi apri il rubinetto ora è tutto più chiaro è la famosa sigla e non si vede scendere l'acqua insomma sembra sempre a me quando parlo della mia migliore amica sulla Dica del Menta abbiamo chiesto a più ripresa Sorical di darci dei tempi certi perché non deve continuare ad essere una chimera della quale sento io parlare da quando ero poco più che diciottenne ma che non si è fatta mai di recente è stato fatto la Dica del Menta ha quasi 40 anni di progetto ormai è desueta neanche l'hanno inaugurato già è vecchia allora abbiamo chiesto proprio a Sorical questo tipo di intervento e di darci dei tempi certi in modo tale da poterli comunicare anche ai cittadini che veramente vivono purtroppo questi disagi nonostante si faccia veramente il possibile per cercare di ridurli al minimo Sorical ha risposto che proprio in occasione di un convegno sull'acqua che si è fatto qualche settimana fa a Palazzo San Giorgio esatto i lavori dovrebbero essere consegnati tra luglio ed agosto di quale anno? dell'anno 2017 anno del signore 2017 ovviamente ce lo dice Armandonelli noi ci crediamo però riporta però ha precisato che è una dichiarazione di Sorica ecco precisiamolo perché lì molti presidenti di regione da Chiaravalloti in poi si sono giocati gran parte della credibilità no io credo che l'abbiano tranne Scopelliti l'ha inaugurata un po' tutti Scopelliti ci ha provato a dare una data poi si è ricordati quante volte l'aveva detto lo iero e quante volte l'aveva detto Chiaravalloti ne ha fatto una sola comunque riceviamo questa dichiarazione da parte di Sorica insomma restiamo fiduciosi sul fatto che sarà effettivamente così altrimenti ci toccherà diciamo anche quest'estate fare i conti con le vicesindaco lei è fiducioso io sono fiducioso ma per natura per cui parli con uno ottimista capito su questo su questo argomento è un genio bisogna essere fiduciosi e poi non cadere nella specie a chi vi sta sperando morì di sperare mi fa piacere che Armando Neri è sempre in forma malgrado sia mancato il messaggio di Riccardo Mauro però lo stesso l'ha mandato sarà impegnato chissà sicuro matematico non può resistere assolutamente va bene comunque lo salutiamo sì sì allora noi siamo arrivati in conclusione caro benvenuto abbiamo avuto ospite abbiamo ancora per qualche secondo Armando Neri vice sindaco del comune di Reggio Calabria ovviamente ci ripromettiamo di riaverlo anche per qualche opera conclusa sì dai a presto